Colossesi, Colossesi, questa sera leggiamo Colossesi capitolo 1, lettera ai Colossesi capitolo 1, dal versetto 15 al versetto 20. Proseguiamo con lo studio di questa lettra di Paolo ai Colossesi dal 15 al versetto 20. Paolo parlando di Cristo afferma egli è l'immagine del Dio invisibile, il primo genito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati potenze, tutte le cose che sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primo genito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Apostolo Paolo che scrive ai Colossesi e credenti di questa città Colosse, Paolo abbiamo visto ha iniziato questa lettera, ha introdotto questa lettera con il ringraziamento a Dio. Paolo ha iniziato scrivendo e descrivendo quello che è il suo ringraziamento a Dio. Paolo ringrazia Dio a motivo della fede dei Colossesi, a motivo dell'amore che i Colossesi hanno per i Santi e della loro speranza in Cristo. È interessante perché Paolo ringrazia Dio, sa che Dio è la sorgente della loro fede, del loro amore e della loro speranza. È un ringraziamento rivolto a Dio a motivo di quello che i Colossesi avevano manifestato, la loro fede, il loro amore e la loro speranza in Cristo. Non solo dal versetto 9 al versetto 14, Paolo scrivendo questa lettera descrive quella che è la sua preghiera per loro, la sua intercessione. Ringrazia Dio per i Colossesi, è un motivo della loro vita spirituale, del loro cammino, ma Paolo prega anche per i Colossesi, intercede per loro. Abbiamo compreso qual era lo scopo della sua intercessione? Intercede affinché ci sia un cammino degno del Signore. È importante perché Paolo nel scrivere questa lettera ritiene fondamentale descrivere la sua preghiera per i Colossesi. Paolo vuole mostrare ai Colossesi che lui sta pregando incessantemente per la loro crescita spirituale, affinché ci sia un cammino degno del Signore, un cammino fedele. E questo è possibile, abbiamo compreso, è possibile solo quando si cresce nella conoscenza della volontà di Dio. Allora, prega, domanda a Dio che siano ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, per poter camminare in modo degno del Signore, in modo fedele, è fondamentale conoscere la volontà di Dio. E questo è possibile attraverso la scrittura. Infatti Paolo scriverà questa lettera e presenterà qual è la volontà di Dio. E grazie a quella volontà che loro potranno crescere nella conoscenza della volontà di Dio e di conseguenza ci sarà un cammino degno del Signore. Quindi senza conoscenza, senza una sana conoscenza della parola di Dio, della sua volontà, non è possibile avere un atteggiamento sano, un comportamento sano, un cammino, una vita fedele conforme a Cristo. Paolo non solo descrive questo cammino degno del Signore caratterizzato da quattro aspetti importanti. Frutto spirituale, colui che cammina in modo fedele al Signore produce frutto spirituale. C'è qualcosa di evidente nella sua vita, un cambiamento nella condotta, nella vita, nelle decisioni, nel modo di pensare, un frutto spirituale, nelle relazioni. Non solo colui che cammina in modo fedele, degno del Signore, cresce anche nella conoscenza di Dio. È importante comprendere che siamo figli di Dio, conosciamo Dio salvificamente, ma siamo chiamati a crescere nella conoscenza di Dio. Siamo chiamati a continuare a crescere nella conoscenza di Dio perché solo così potrà esserci un cammino fedele. Solo quando conosciamo Dio in modo biblico capiremo come camminare fedelmente. C'è un altro aspetto che caratterizza un cammino degno del Signore, la perseveranza dei santi. Il cammino del credente non è un cammino lunatico, se così possiamo dire. Ma è una perseveranza, non è un cammino a tempo determinato. Quando riesco cammino col Signore, quando ho tempo, quando tutto va bene, ma è un cammino perseverante. La perseveranza anche nelle difficoltà è la caratteristica di colui che è in Cristo e che cammino in modo fedele. Ed è perseverante grazie alla potenza di Dio. E non dice che è perseverante perché lui è forte in se stesso, ma perché è fortificato dalla sua gloriosa potenza. Ecco perché colui che è perseverante dimostra di essere figlio di Dio. Solo colui che persevera sino alla fine. perseveranza dei santi è la prova della potenza di Dio in loro. Dio che custodisce e fortifica per essere pazienti, per essere perseveranti. E poi c'è una quarta caratteristica. Quarto aspetto che caratterizza un cammino degno del Signore, del ringraziamento. Coloro che camminano in modo fedele ringraziano Dio costantemente. Anziché lamentarsi, anziché avere pretese nei confronti di Dio. C'è un atteggiamento di riconoscenza. Paolo più volte parla di ringraziamento. Essere sempre riconoscenti in ogni cosa. Rendete grazie a Dio perché questa è la volontà di Cristo Gesù per voi. Questo è quello che scrive ai testi non dicesi. E il ringraziamento a Dio è specificamente dovuto la grazia salvifica. Il credente cammina in modo degno del Signore quando si focalizza sul Vangelo della grazia di Dio. Quando considera costantemente ciò che Dio ha operato in lui. Il motore per un cammino fedele è la grazia di Dio. Quando siamo riconoscenti, quando ricordiamo che eravamo nemici di Dio, questo è quello che dirà al versetto 21. E voi che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri, delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati. Il credente che ringrazia Dio costantemente per la sua opera santifica. Questo caratterizza un cammino degno del Signore e Paolo prega per questo. Sapete, questo deve essere la nostra preghiera. Questo deve essere il contenuto della nostra preghiera. Desiderare di crescere, di camminare in modo fedele. Frutto spirituale, crescere nella conoscenza di Dio, perseveranza anche nelle prove e ringraziamento a Dio per la sua grazia servitica. Paolo ha introdotto questa lettera in questo modo, quindi ringraziando Dio e intercedendo per i Colossesi, ma dal versetto 15, come noterete, Paolo ora inizia il corpo di questa lettera. Ora inizia questa lettera non esortando, Paolo non esorta i Colossesi, ma inizia prima di ogni cosa, parlando di Cristo. Ora qui sta scrivendo dei credenti che conoscono Cristo, infatti hanno fede in Cristo Gesù, versetto 4, ma Paolo ritiene fondamentale iniziare questa lettera parlando di Cristo, specificamente parlando del primato di Cristo, della preminenza di Cristo. Questa è l'enfasi in questi versetti. Paolo scrive questa lettera ai Colossesi per esortarli un cammino fedele, per istruirli, ma ricordate che Paolo scrive in un contesto particolare, specifico, alla luce della presenza di falsi insegnamenti, di falsi insegnanti. Capitolo 2, abbiamo già visto questo tempo fa, Paolo parla di filosofie, tradizioni, parlerà di legalismo, di ascetismo, di misticismo, esorterà i Colossesi a fare attenzione e prima di ogni cosa per poter discernere come affrontare e come rigettare qualsiasi falso insegnamento, il primo aspetto è considerare la preminenza di Cristo, il primato di Cristo. Ecco come avere discernimento spirituale quando c'è un'enfasi sul primato di Cristo, quando c'è una conoscenza sana di Cristo Gesù e di conseguenza della salvezza possibile in Cristo Gesù. Indirettamente comprendiamo che i falsi insegnanti avevano una idea errata riguardo a Cristo e Paolo deve enfatizzare a dei credenti che Cristo ha il primato su ogni cosa e di conseguenza la salvezza possibile solamente in Cristo. E qui Paolo scrive in questo contesto alla luce della presenza di falsi insegnamenti di cui parlerà al capitolo 2 e per istruire i Colossesi, per avere discernimento, per fare attenzione, deve ricordare, ricorda noi stasera, che Cristo ha il primato. Fondamentale avere una conoscenza corretta di Cristo per quanto riguarda la nostra vita spirituale, il nostro cammino e soprattutto per quanto riguarda anche il discernimento, riguarda i falsi insegnamenti. Quindi Paolo deve chiarire aspetti importanti che riguardano l'identità di Cristo, la persona di Cristo e l'opera di Cristo. Questi versetti sono in un certo senso un inno, un inno attraverso il quale Paolo innanza Cristo al di sopra di ogni cosa. Attraverso questi versetti Paolo spazza via tutte le false religioni che presentano un falso Dio. Qui conosciamo chi è l'unico vero solo Dio e conosceremo attraverso questi versetti il primato di Cristo. Come leggiamo in Atti 4 a 12, in nessun altro la salvezza, in nessun altro, nessun altro nome per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Solo il nome di Cristo Gesù. Paolo parla della preeminenza di Cristo in ogni cosa, su tutto. Infatti solamente sette affermazioni che troviamo in questi versetti come riassunto di questo brano, sette affermazioni che mettono in luce il primato di Cristo. Chi è Cristo? La prima è questa, Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Seconda affermazione, Lui è il primo genito di tutta la creazione. Terza affermazione, Lui è prima di tutte le cose. Lui è il capo della Chiesa. Cristo Gesù è il principio. Lui è il primo genito dai morti. e poi Lui ha il primato. Lui è preeminente. Sono affermazioni che troviamo in questi versetti che infattizzano chi è Cristo. La sua identità, e ribadisco, sta scrivendo dei credenti in Cristo, che conoscono Cristo, ma che hanno bisogno di chiarezza riguardo a Cristo Gesù. Alla luce della presenza di falsi insegnamenti. Paolo scrive questa lettera in risposta alle notizie ricevute da Epafra, questo uomo che ha fondato questa Chiesa, e grazie a lui che ha conosciuto anche i rischi dovuti alla presenza di falsi insegnanti. Quindi Paolo inizia, ribadisco, parlando di Cristo. Primo aspetto di cui Paolo parla, versetto 15, la prima parte di questo versetto 15. Il primo aspetto è questo, la divinità di Cristo. Paolo inizia descrivendo la divinità di Cristo, versetto 15, la prima parte. Dice, Egli è l'immagine del Dio invisibile. Dopo aver affermato che Dio ci ha liberati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo amato figlio e in Lui, in Cristo, abbiamo la redenzione, ora ci descrive chi è Cristo. Cristo è l'immagine del Dio invisibile. È l'immagine del Dio invisibile. Questo termine immagine che troviamo anche in Seconda Corinzi 4, 4. Gesù è la perfetta rappresentazione e manifestazione del Dio invisibile, ovvero Gesù è Dio incarnato. Gesù è la perfetta rivelazione del Dio invisibile. Chi ha visto Gesù ha visto Dio. Paolo inizia descrivendo l'identità di Cristo. Lui è l'immagine del Dio invisibile, la rivelazione del Dio invisibile. In Giovanni, il Vangelo di Giovanni, l'Apostolo Giovanni, afferma ciò, versetto 18, 1, 18. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Gesù ha fatto conoscere il Dio invisibile. Giovanni 14, 9. Gesù stesso disse queste parole ai discepoli. «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre». Gesù è la manifestazione del Dio invisibile, del Dio invisibile. Paolo inizia descrivendo la divinità di Cristo. Chi ha visto Cristo ha visto Dio. Paolo inizia in questo modo e ricordiamoci in questo contesto dove c'erano falsi insegnamenti e c'era legalismo, misticismo, ascettismo, filosofie, tradizioni e Paolo deve ramentare che Cristo è Dio. falsi insegnanti che presentavano falsi idee. Paolo mette in luce che Cristo è Dio. Paolo prosegue. Secondo aspetto, dal versetto 15 al 17, la seconda parte del versetto 15 fino al 17, in questo secondo aspetto vedremo il primato di Cristo sulla creazione. Non solo Gesù è Dio, Gesù è la perfetta manifestazione del Dio invisibile, ma Gesù ha il primato su tutta la creazione. Dice subito dopo, Paolo, il primo genito di ogni creatura. Il primo genito di ogni creatura. questa affermazione che è stata usata da persone, testimoni di Geova, per affermare che Gesù è una creatura, il primo creato. Questo è quello che insegnava Ario nel terzo quarto secolo dopo Cristo, arianesimo, questa falsa dottrina, negazione della divinità di Cristo, presentato come una creatura perché qui dice il primo genito di ogni creatura. Questo è quello che ancora oggi alcuni insegnano. Come vedremo in questo contesto? Non è questo il significato di questa frase. Il contesto dimostrerà il contrario. Ma non solo, anche il termine primo genito è importante. Questo termine primo genito non significa solamente colui che è nato prima, cronologicamente, primo genito. Non significa solo questo, ma si riferisce anche ad una posizione di preeminenza. È un termine che la scrittura usa per enfatizzare che qualcuno ha un posto speciale davanti a Dio. Preeminenza, superiorità. Per esempio, nell'Antico Testamento, alcuni versetti, velocemente, Esodo 4, 22. Esodo 4, 22. Capitolo 4, versetto 22. Quando leggiamo, tu dirai al farone, qua parla Mosè, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primo genito. Non si riferisce a colui che è nato prima, ma a colui che ha un posto speciale davanti a lui, il primo genito, il suo popolo è letto. Oppure in Geremia 31, Geremia 31, la seconda parte del versetto 9, Geremia 31, versetto 9, quando dice perché sono diventato un padre per Israele ed Efraim è il mio primo genito, anche qui non si riferisce a colui che è nato prima, ma a colui che ha un posto speciale, che è al di sopra degli altri, che Dio ha scelto come suo popolo speciale. Il Salmo 89, Salmo 89, parlando di Davide, Re Davide, 89, versetto 27, 27. Io inoltre lo costituirò mio primo genito, il più eccelso dei re della terra. Termini che si usano in riferimento, come vedete, alla superiorità, alla superiorità, questo posto speciale davanti a Dio, non colui che è nato prima. E questo è quello di cui parla l'Apostolo Paolo. Infatti anche in Romani, in Nuovo Testamento, in Romani 8, 29, Paolo dice questo, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primo genito tra molti fratelli. Non significa il primo nato, ma il superiore, quello che ha il primato in mezzo ai credenti, ai suoi discepoli. In questo termine si riferisce alla supremazia di Cristo, ma non solo il termine si riferisce alla superiorità, ma anche il contesto ci conferma che Cristo non è una creatura. Versetto 16 dice, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e invisibili, troni, signorie, principati e potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Qui dice in Lui sono state create tutte le cose, ci specifica perché Lui è il primo genito di ogni creatura, di tutta la creazione, perché? Perché in Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono state create tutte le cose. Gesù non è una creatura, Gesù è il creatore. Il contesto dimostra, cioè, anche il termine primo genito, dimostra che Lui non è una creatura, la prima nata, ma Lui è il creatore per mezzo di Lui e in vista di Lui. Lo scopo della creazione è Cristo, tutto creato per mezzo di Lui e Gesù è lo scopo della creazione. In Lui tutte le cose sono state create. Gesù, quindi, è la manifestazione del Dio invisibile e Dio incarnato colui che ha creato tutte le cose, tutte le cose, specifica, tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, e poi aggiunge troni, signorie, principati e potenze. Qui si riferisce alle potenze angeliche, diverse classi di potenze angeliche. Il capitolo 2 parla di ciò, versetto 10, e voi avete tutto pienamente Lui che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Versetto 15, la stessa cosa. ha spogliato i principati, le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Il riferimento è agli angeli, così come nei Fesini 1, 21, in altri brani. Cristo Gesù è il creatore di tutte le cose. Non è una creatura? Ecco che il termine primogento si riferisce alla sua superiorità. Questa frase strapolata da questo contesto è usata per dire che Gesù è una creatura? e probabilmente anche in quel contesto come oggi, questo è quello che credevano. Gesù è il creatore, quello che è superiore, che ha il primato, la premenenza. E poi, versetto 17 aggiunge, Egli è prima di ogni cosa. Non solo è Dio incarnato, non solo ha creato tutte le cose, tutte, per metodo di Lui e in vista di Lui. Lui è lo scopo della creazione, ma Lui è prima di ogni cosa. Cosa vuol dire? Qui si riferisce alla preesistenza di Gesù. Gesù è l'Eterno, precede tutte le cose, non è stato creato, è sempre esistito. Anche qui, Giovanni 1, capitolo 1, versetto 1, nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Nel principio Gesù, la parola è sempre esistito e poi è diventata carne, abitato per un tempo fra di noi, piena di grazie, di verità, si è incarnato. Gesù è Dio incarnato e Lui è sempre esistito. Lo parlò ai Giudei, Giovanni 8, 58. I Giudei gli dissero, tu non hai ancora 50 anni, hai visto Abramo? Gesù disse, in verità, in verità, vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono Gesù e Lio sono, Yahweh, Dio, l'Eterno. Gesù, Dio incarnato, è sempre esistito. Lui è prima di ogni cosa. E la creazione è stata creata. Ogni cosa della creazione, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Vedi, gli atei spesso, nelle loro argomentazioni, affermano che non ha senso credere che Dio sia il creatore. Perché d'altronde la Terra ha un piccolo pianeta, pianeta a confronto all'universo. L'uomo piccolo così com'è, che senso avrebbe creare l'uomo in questo piccolo pianeta quando c'è un universo che è infinito? Beh, il senso è un altro. Non è l'uomo lo scopo della creazione, ma è Cristo. La creazione che è infinita, immensa, ha lo scopo di manifestare la potenza di Cristo o la sua divinità. Ma lo scopo del creato non è l'uomo, ma è Cristo manifestare che Cristo è l'eterno e il potente. Non è l'uomo lo scopo. Infatti, in Romani 1, 20, Romani capitolo 1, versetto 20, Perché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendo lo Dio manifestato loro, infatti, le sue qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e la divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per metodo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Il creato ha un scopo a manifestare la gloria di Cristo, la sua divinità. Non è l'uomo lo scopo della creazione, dell'universo infinito, ma è Cristo lo scopo. In vista di Lui, tutte le cose sono state create. In vista di Lui. Non solo Gesù è Dio incarnato, non solo è il creatore di tutte le cose, non solo è prima di ogni cosa, ma dice e aggiunge tutte le cose che sussistono in Lui. Tutte le cose continuano ad esistere in Lui grazie a Cristo. Tutte le cose esistono grazie all'opera di Cristo. Vedete l'enfasi in questi versetti. Paolo, a mostrare chi è Cristo. Contrastando falsi insegnamenti. E vuole istruire Colossese ricordando che Cristo è il sovrano, il creatore. Ed è in Lui che tutte le cose sussistono. Un brano importante che parla di ciò ebrei. Capitolo 1. In Ebrei capitolo 1. L'autore scrive queste parole. Egli, riferendosi a Cristo, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. E che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Gesù è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. Gesù è Dio e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Cristo non è una creatura. Cristo Gesù è Dio incarnato, il creatore, colui che è sempre esistito e che sostiene tutte le cose. E comprendiamo che in questo contesto, il primo agendo non significa il primo nato. Purtroppo questo è quello che alcuni affermano, usano questi versetti, ma si riferisce al primato di Cristo superiore su tutta la creazione che Lui ha creato. E Lui è lo scopo. Paolo in questi versetti chiarisce quindi chi è Cristo in relazione alla creazione. Cristo al primato. È prima di ogni cosa. Sostiene tutte le cose e per mesi di Lui sono state create. Passiamo ora al terzo punto del versetto 18 al 19, il primato di Cristo sulla Chiesa. Paolo descrive ora Gesù, la sua identità in relazione alla Chiesa. Il primato di Cristo sulla Chiesa. Versetto 18. E Egli è il capo del corpo, la Chiesa. Cristo è il capo del corpo, la Chiesa. Termine, Chiesa, sappiamo, nella scrittura si riferisce, nel Nuovo Testamento si riferisce a coloro che sono in Cristo, rigenerati. A coloro che Dio ha scelto, salvato e rigenerato appartengono al corpo di Cristo. Non è un locale. Infatti Cristo non è il capo di un locale, ma è il capo di persone che appartengono a Lui, ai credenti in Cristo. E' il capo supremo sulla Chiesa. Di questo parla nei Fesini 1, 22, 23. Fino a 23. Essere parte quindi della Chiesa significa essere sotto l'autorità e signoria di Cristo. Essere credenti significa essere parte del corpo di Cristo, la Chiesa, e quindi sotto la sua signoria. E Paolo parla di Cristo come il capo della Chiesa, perché grazie a Cristo che la Chiesa può crescere spiritualmente. Cristo è la sola sorgente per la crescita dei credenti. Cristo non c'è altro capo. Lui è l'autorità. Lui è la sola sorgente per la crescita spirituale dei credenti, mediante la sua parola. Paolo descrive Gesù come il capo della Chiesa. In questo contesto dove parla di falsi insegnamenti, è importante ricordare chi è il capo della Chiesa. Cristo. Contrastando le eresie, i falsi insegnamenti, di cui parlerà. Capitolo 2, versetto 19. Dal 18 dice Nessuno vi derubi al suo piacere del vostro premio, con un protesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi le proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale, senza tenersi al capo, da cui tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme, mediante le giunture e i legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio. La Chiesa cresce grazie al suo capo, a Cristo, ma se non c'è questa considerazione, questa chiarezza che Cristo è il solo capo, Lui è l'autorità mediante la sua parola, non può esserci crescita, non può esserci discernimento. E coloro che appartengono a Cristo e che affermano di essere sotto la Signora di Cristo, appartengono alla Chiesa di Cristo. Oggi c'è molto individualismo. Io mi rapporto con Gesù, prego tante ore al giorno e vivo la mia relazione con Lui, ma il rapporto con Cristo lo si vive come Chiesa. Qui dice che il capo non del credente, ma il capo della Chiesa, del corpo, i credenti, in modo collettivo, crescono sottomessi a Cristo, come Signore. C'è un cammino personale, ma c'è un cammino come Chiesa. Egli è il capo del corpo, il capo della Chiesa. I credenti vivono sottomessi alla Sua Signoria. Non esiste qualcuno che è salvato, Gesù è il mio Salvatore, ma poi non è il suo Signore. Possiamo dissociare questi due aspetti. Secondo alcuni è possibile. Gesù mi è salvato, però non vivo sottomesso alla Sua Signoria. Non è possibile perché Cristo è il capo della Chiesa. È il solo capo, è il vero discepolo, è sottomesso a Cristo, il suo capo. E poi aggiunge, è lui, è il primo genio, è il principio. È lui, il principio. Gesù è il principio. E qui, ancora una volta, in questo contesto si riferisce alla supremazia. Lui è il principio. Lui è l'assoluta autorità. Lui è il principio. Lui è l'origine della Chiesa. Da lui nasce la Chiesa. Lui è il primato. Lui è il principio. Lui ha la superiorità. Questa autorità assoluta assoluta e aggiunge il primo genito dai morti. Anche qui a cosa si riferisce? Non solo Cristo è il primo ad essere risorto dai morti, della garanzia, della nostra risurrezione, ma Lui è superiore a coloro che risusciteranno, ai Suoi discepoli. Lui è superiore al primato, alla preminenza, anche, non solo sulla creazione, non solo sulla Chiesa, ma anche sulla risurrezione. In Prima Corinzi, in Prima Corinzi, Prima Corinzi 15, versetto 20, Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. E poi dice, versetto 22, Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Oggi verrà la fine. Cristo è il primo dai morti. Il primo ad essere risorto dai morti è colui che ha la superiorità su coloro che risusciteranno. Lui il garante della nostra futura risurrezione. Lui superiore. E poi ci spiega lo scopo. Per quale ragione? E' il primo genito dai morti. Affinché, dice, affinché in ogni cosa abbia il primato. Ecco perché lui è il principio, il capo della Chiesa, il primo genito dai morti, affinché, dice in ogni cosa, lui abbia il primato. Il primo posto in tutto. Gesù Cristo ha il primo posto in tutto. Questa è l'enfasi di Paolo in tutti questi versetti. Il primato, non solo sulla creazione, non solo sulla Chiesa, ma anche sulla risurrezione. Lui ha il primato affinché abbia la preeminenza su tutto. Non c'è nessuno che è superiore a lui. Nessuno. Non c'è nessuno che è superiore a Cristo. Primato sulla creazione, primato sulla Chiesa e primato sulla risurrezione. E per quale ragione? tutto ciò. Perché lui ha il primato diciannove? Poiché, ci spiega, poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza. Qui ci spiega perché, perché Cristo ha il primato su tutte le cose. Perché? Ci spiega perché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza. Quando parla di pienezza si riferisce alla pienezza della Deità. Capitolo 2, versetto 9, di questo parla. Perché in lui, dice, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. È piaciuto al Padre far abitare in lui tutta la pienezza della Deità. Cosa vuol dire? Gesù abbiamo visto la perfetta manifestazione di Dio, del Dio invisibile e la pienezza della Deità si trova in lui non nelle creature. Questo è quello che insegniamo probabilmente i falsi insegnanti, che nelle creature c'è questa divinità. Questo è quello che insegnano alcuni che si definiscono evangelici in alcuni contesti che credi sono degli Dei. In lui, solamente lui, al Padre, il Padre, ha fatto abitare tutta la pienezza. Gesù, Gesù è Dio. Gli attributi di Dio e le sue opere sono manifestati perfettamente in Cristo. Paolo deve affermare ciò. In questo contesto di falsi insegnamenti, il versetto 8 del capitolo 2, dirà, guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Vedete? In quale contesto parla di questo. Attenzione e falsi insegnamenti a filosofie tradizioni attenzione perché in Lui solamente in Cristo abita tutta la pienezza della Deità. Solo Cristo è Dio. Solo Cristo è Dio. Ed ecco perché ha il primato su tutte le cose. Ecco perché Lui ha la preeminenza su ogni cosa. Paolo sta contrastando le eresie e i falsi insegnamenti e descrivendo la divinità di Cristo e la sua supremazia. E questa sera non consideriamo queste come cose che sappiamo. No. Sono cose che dobbiamo rammentare a noi stessi perché è in questo modo che avremo discernimento di fronte ai falsi insegnamenti. Di fronte a qualsiasi falsa religione in mezzo a noi. Considerando che Lui è il capo della Chiesa e non qualcun altro non un profeta non un uomo che si fa definire come capo della Chiesa no. Cristo è il capo Lui ha il primato Gesù Cristo è Dio. Paolo descrive quindi la divinità e la supremazia di Cristo contrastando i falsi insegnamenti e Lui abita tutta la pienezza della Deità. e poi c'è un quarto ultimo aspetto versetto 20 la Signoria di Cristo su tutte le cose non solo il primato di Cristo sulla creazione non solo il primato di Cristo sulla sulla Chiesa ma la Signoria di Cristo su tutte le cose infatti dice quel che al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui avendo fatto la pace mediante il sangue della Sua croce per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei Cieli. Al Padre piacque di far abitare in Lui in Cristo tutta la pienezza della Deità ma qui aggiunge e di riconciliare a sé letteralmente di riconciliare a sé a sé stesso tutte le cose sulla terra e nei Cieli tutte le cose avendo fatto la pace per mezzo della Sua croce ovvero per mezzo del sacrificio di Cristo grazie al sacrificio di Cristo Dio ha riconciliato a sé tutte le cose tutte le cose grazie alla Sua morte e risurrezione ora attenzione nei prossimi versetti dal 21 al 23 che vedremo la prossima volta Paolo parlerà della riconciliazione dei credenti salvifica la riconciliazione salvifica dei credenti ma qui al versetto 20 parla di questa riconciliazione che riguarda tutti perché dice è di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Cristo per mezzo della Sua morte e risurrezione questa non è una riconciliazione salvifica ma è questa riconciliazione universale ovvero angeli uomini e tutta la creazione sono sottomesse a Cristo la Sua Signoria per molti questa sottomissione non sarà salvifica ma sarà contro la loro volontà ma qui presenta questa riconciliazione perché tutte le cose sono sottomesse a Dio a Cristo se vi ricordate in Filippesi 2 Filippesi 2 lettera che Paolo scrive lo stesso periodo quando era in prigione a Roma scrive anche questa lettera e dice parlando della morte di Cristo la sua ubbidienza la morte di croce dice perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto terra e ogni lingua confesse che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre qui parla di tutti anche non credenti anche gli atei dovranno sottomettersi a Cristo Gesù mediante la sua morte e risurrezione riconcilia tutti a Dio tutti sottomessi a Dio questo accadrà in futuro per noi credenti in modo salvifico sottomessi a Cristo salvificamente ma per molti sarà una sottomissione contro la loro volontà dovranno riconoscere che Cristo è il Signore e ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Lui è il Signore anche gli atei anche gli agnostici tutti ecco questa riconciliazione tutte le cose anche i ribelli sottomessi a Cristo in che modo al giudizio di Cristo Gesù in Giovanni 5 Giovanni 5 l'Apostolo parla per esempio 26 del giudizio perché come il Padre ha vita in sé stesso così ha dato anche al Figlio di avere vita in sé stesso e gli ha dato autorità di giudicare perché è il Figlio dell'uomo non vi meravigliate di questo perché l'ora avviene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio con la riconciliazione io non posso far nulla da me stesso come odo giudico e il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà ma la volontà di colui che mi ha dato è stato 22 inoltre il padre non giudica nessuno ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio e diante il sacrificio di Cristo tutte le cose sottomesse a Cristo riconciliate a Dio questo è quello che accadrà Cristo è ora sovrano Dio è sovrano ma in futuro con il giudizio e la salvezza dei credenti ci sarà questa sottomissione completa di tutte le cose anche del creato anche gli angeli ribelli anche Satana anche i non credenti si sottometteranno riconosceranno che Cristo è il Signore su tutte le cose Cristo è il Signore Cristo ha la Signoria su tutte le cose le cose sulla terra le cose che sono nei cieli in questi versetti Paolo ben visto ha messo in luce a dei credenti i colossesi e anche noi la preeminenza di Cristo Cristo ha la preeminenza su ogni cosa Cristo è superiore a tutti e Paolo parla di ciò in questo contesto in cui parlerà di falsi insegnanti di falsi insegnamenti di filosofia di tradizione ogni qualvolta si sposta l'attenzione da Cristo e si pensa ad altro è un altro che ha l'autorità anche in modo indiretto anche gli evangelici ecco che apriamo la porta a falsi insegnamenti ogni qualvolta non ci soffermiamo sul primato di Cristo cadremo nel legalismo mettendo noi come autorità di sopra di Cristo e della Chiesa di Cristo se non è lui capo e non c'è questa enfasi sul suo primato saremo noi a dare il nostro contributo con quello che il legalismo vedremo o l'ascetismo o il misticismo visioni di questo parlerà non toccare questo Paolo deve iniziare parlando della divinità di Cristo Gesù Cristo è la perfetta rappresentazione e manifestazione del Dio invisibile Cristo è la rivelazione di Dio non è una creatura ma abbiamo visto che è il creatore lui ha il primato su tutta la creazione lui ha creato tutte le cose tutte create per lui lui è lo scopo della creazione la creazione manifesta la gloria di Cristo la sua divinità lui ha la permanenza sulla creazione ma non solo anche sulla chiesa è il capo della chiesa il capo del corpo lui è il principio lui ha la sua autorità lui è il primo dai morti il primo ad essere risorto e superiore a coloro che risusciteranno alcuni condannati al tormento eterno ad altri questa risurrezione di vita Gesù è il superiore Gesù è il primo e poi Gesù è il Signore lui è il Signore su ogni cosa il Padre ha riconciliato a sé tutte le cose dal mezzo del suo sacrificio e anche la sua morte è risurrezione il Padre ha affidato ogni cosa sottomessi a Cristo ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui tutti sottomessi a Lui tutte le cose riconciliate anche i ribelli anche gli incredibili e faranno ciò contro la propria volontà ma dovranno fare ciò oggi molti negano Cristo quello che si fanno chiamare atei la scrittura ci mostra che non esistono atei esistono i ribelli e è Cristo manifestato la sua gloria attraverso il Criato nel giorno chi non si la vede dovrà riconoscere che è Cristo il Signore dovrà riconoscere che è Cristo il Signore Paolo sta qui contrastando i falsi insegnamenti ricordando la supremazia di Cristo e di conseguenza vedremo la prossima volta parlerà della salvezza che è possibile in Cristo solo quando parliamo della supremazia di Cristo solo quando consideriamo l'importanza di Cristo su ogni cosa il suo primato la sua preminenza lì comprendiamo che la salvezza è solo possibile in Cristo Gesù ma prima iniziare parlando di Cristo per poter avere discernimento riguardo i falsi insegnamenti contrastare e ricettare eresie solo quando consideriamo chi è Cristo e la prossima volta considereremo che modo è possibile la salvezza e capiremo che è possibile essere perdonati i nostri peccati ed essere redenti solo perché Cristo è Dio incarnato ecco perché proclamare Cristo perché in Lui solo è la salvezza in Lui solo è la salvezza di questo Paolo parlerà nel versetto 21-23 fondamentale Cristo ha il primato su ogni cosa Cristo è prima di ogni cosa Cristo è superiore a tutte le cose noi chiamati a sottometterci a Lui Lui che è il capo della Chiesa sottometterci alla Sua Signoria e conoscendo il suo primato e per essere credenti che discernono che possono così difendersi da falsi insegnamenti difendersi e discernere il legalismo può esserci nella Chiesa il misticismo e questo accade un po' quando non si considera il primato di Cristo di Cristo di Cristo di Cristo Grazie a tutti